Un saluto a tutti, sono Master Sarna. Con il maestro Nemo ho fondato Ludosport e oggi ho il piacere di presentarvi una delle iniziative che abbiamo attuato per consentire a tutti di conoscere lo sport che abbiamo creato e che migliaia di persone nel mondo praticano con entusiasmo. Quello che vi presento oggi è il videocorso di Brandeggio 1 che fa parte del progetto Ludosport Evolve. Se tu impugni una light feber non resisti alla tentazione di muoverla cercando di creare quelli che vengono chiamati trick, spin, flow. Anche noi lo facciamo, ma come la nostra tradizione abbiamo costruito un sistema tecnicamente sofisticato e strettamente legato alla nostra attività sportiva. Per un atleta Ludosport il brandeggio è una forma di allenamento che mira a migliorare il livello di confidenza con la nostra spada. Il brandeggio è una pratica integrativa alle tecniche che porta l'atleta ad acquisire il pieno controllo delle leve e dei bilanciamenti e padroneggiare le forze che governano la dinamica del movimento. Nella nostra Saber e con il brandeggio allenerai anche la mobilità delle dita. Conoscerai molti e diversi effetti dati dalle variazioni di presa sull'elsa. Il brandeggio è anche un'intensa attività aerobica ottima ai fini del riscaldamento. Chi non pratica il nostro Saber combat sportivo apprezzerà sicuramente l'effetto spettacolare delle diverse transizioni e iniziando dai movimenti più semplici arriverà ad eseguire facilmente manovre sempre più complesse. Allenarsi nel brandeggio aumenta la capacità coordinativa e in particolare quella oculo manuale, la reattività, la propria eccezione, l'equilibrio oltre a migliorare la mobilità articolare. Ma se tutto questo non vi interessa potete semplicemente divertirvi godendo della bellezza dei movimenti che Dante, uno dei miei allievi diretti, vi aiuterà a realizzare nel corso del brandeggio 1. Ma ricordatevi sempre che lo sport è un gioco. Il gioco è divertimento e divertirsi facendo sport fa bene alla salute. E poi lo sapete, il Ludo Sport quando ne giochiamo lo facciamo molto seriamente. Quindi buona visione a tutti.